Gabriele Cirilli C'era poi lui, no? Che è successo? Lui è stato rimandato, si è arrabbiato e allora cercheremo di dimostrare che non andava rimandato ma andava promosso, tutto lì Senti, come dicevamo con Giorgio Panariello, quindi sarete costretti a interpretare dei dui, dicevamo dei dui Vedremo, vedremo, perché io posto delle mie condizioni che venerdì sera si paleseranno, se Carlo vorrà, perché ricordatevi che è sempre viva Carlo Conte Grazie Grazie a voi, ciao, ci vediamo venerdì 30 settembre alle 21 su Rai 1